Videogioco didattico prodotto da Istituto Frammartino. Professor Fiocchi e professoressa Ianni. Professor Fiocchi, premi il tasto spazio per continuare, i tasti freccia per muoverti, colpisci i palloncini vero o falso con la palla nera. Professor Fiocchi, premi il tasto spazio per continuare, i tasti freccia per muoverti, colpisci i palloncini vero o falso con la palla nera. No, mannazza! È... 14, l'articolo giusto. Professor Fiocchi, hai concluso la partita con il seguente punteggio? 30.